ciao a tutti oggi vorrei parlarvi di quella che conosciuta come la festa di halloween ma che in realtà è una festa antica di origine celtica o ancora più antica mantenuta poi dai popoli britannici e soprattutto degli irlandesi portati in america come halloween e ritornata in europa molti inoridiscono quando si parla della festa di halloween perché tendono a unirla a una sorta di carnevale macabro un carnevale horror di origine americana che non ha niente a che fare con le nostre tradizioni ma non è così in realtà halloween è samain e questa festa è tipica dell'europa centrale quindi è ritornata nelle sue origini ed è una festa che ci parla di fine del raccolto e che sì poiché la terra va a riposo ecco che in quel periodo 29 ottobre 2 novembre non vi dice niente si apre un varco si apre un varco e c'è un passaggio con l'altro quello che chiameremo l'altro mondo non è un caso che poi la chiesa cristiana ha messo in quel periodo il primo di novembre ogni santi e il 2 di novembre la festa dei morti si tratta esattamente della stessa cosa è un po questo modo un po horror di viverlo con le maschere col nero coi teschi è un po un esorcizzare il rito della morte è un po esorcizzare e cercare di nascondersi perché la tradizione dice che gli spiriti dei defunti arrivano da noi e di conseguenza questo travestimento con le maschere nasce per confondere la gli spiriti che arrivano una tradizione che io considero molto tenera che nasce nel nord italia e quindi non sono in grado di dirvi perché non lo so non l'ho controllato se c'è anche in altre regioni è quella che durante la notte dei morti si rifà il letto con lenzuola pulite si dedicava una stanza una volta le cascine erano grandi gli spazi erano più grandi si dedicava una stanza ai defunti che avevano abitato in quella casa di conseguenza potevano ritornare nel loro ambiente nel loro letto e così facendo sarebbero stati poi grati alle persone che ci abitavano in realtà nel varco di samain in questa apertura si tendeva e si fa ancora adesso a interagire con un mondo che normalmente ci è chiuso quindi è favorita l'attività medianica così come sono favorite visioni del futuro su quali sapete benissimo che non sono d'accordo e anche i riti del cibo quindi sulla tavola si mettono tutti i cibi del raccolto è l'opposto samain del varco di pasqua di qui la terra va in riposo noi andiamo nella nostra interiorità aspettando il sostizio d'inverno in cui poi torna la luce nel varco di pasqua poi arriva beltane che è una festa di fertilità ma di questo parleremo una prossima volta vi auguro quindi un felice samain vi mando tanta luce e al prossimo a chiacchierata su questi riti tradizionali vi ricordo che se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi al mio canale così manteremo i contatti che potete mettere un like mettere tutti i commenti che vi fa piacere mettere io ne sarò felice cercherò di rispondervi se volete contattarmi in sovraimpressione avete visto scorrere il mio numero di telefono e alla prossima ciao Grazie 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 Grazie